Ancora in aula, nell'ex Tribunale di Bitonto, alla presenza di 45 avvocati delegati dai 277 legali, costituiti in nome per conto delle oltre 2.500 parti civili, nel processo che vede imputati per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza Marco e Gianluca Iacobini. Nell'aula le postazioni per i difensori dei due imputati e 12 parti civili, mentre altre 20 postazioni sono state suddivise e collegate in videoconferenza in spazi a Atigui. Diritto di replica ai difensori di Marco e Gianluca Iacobini sulla richiesta di costituzione delle parti civili e poi la parola ai giudici che decideranno su chi ammettere. In linea di massima, prevista la definizione in agenda della data della prossima udienza per l'avvio del dibattimento che si svolgerà nel centro congressi della Fiera del Levante, si presume prima di Pasqua. Dal Ministero della Giustizia è arrivato il parere favorevole per affittare lo spazio del centro congressi al quale avrebbero accesso, nella fase dibattimentale, 300 addetti ai lavori, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento. Le verifiche effettuate hanno dato esito favorevole, resta da definire nel dettaglio l'organizzazione dei servizi di vigilanza e dei controlli anticovi dagli accessi. La disponibilità del padiglione feristico è comunque limitata a tre mesi, si prevede dunque un calendario udienze molto serrato.